benvenuti a tutti nel mio canale adesso vi mostrerò alcune delle preparazioni effettuate nel reparto macilleria allora come prima cosa ci sono dei tramezzini di cotto rucola ingredienti base sono carne di suino e bovino sul letto di insalata poi abbiamo del prosciutto di maiale marinato, girelle cotto rucola e formaggio filante poi abbiamo dei crocchè di carne con cotto e rucola e formaggio con della panatura esterna di pane grattugiato carote in granuli e prezzemolo questi sono altri tramezzini alla tirolise praticamente con speck formaggio sul letto di rucola polpettine con prezzemolo abbiamo una boscaiola con del prosciutto di maiale funghi olive e una peperonata gli ingredienti sono prosciutto di maiale salsiccia ovviamente peperoni olive olio e maggiorana impasto base dei tramezzini crocchè e girelle sono carne di suino bovino con fecola di patata tutto impastato e steso su della carta da forno nel prossimo video gli ingredienti esatti grazie grazie